E mi ricordo che negli anni settanta vedevo da bambino dei film di fantascienza e lì si immaginava tra le altre cose anche il cibo del futuro. Era sempre lo stesso. Pillole, pillole nere, brutte, leofilizzate, in sapore e in odore. Insomma, che futuro poteva mai essere? Era deprimente, no? E invece fortunatamente si sbagliavano perché il cibo del futuro si sta avvicinando, sarà uguale come forma a quella che oggi conosciamo, soltanto che sarà di sicuro più gustoso, più giusto e più sostenibile. Abbiamo una nuova cassetta degli attrezzi, possiamo utilizzarla al meglio. L'unica preoccupazione è che se immaginiamo il futuro come una pillola in sapore, poi non riusciamo a incuriosirci delle nuove tecnologie che oggi ci sono a disposizione, che ci permettono di addentrare il futuro.